Siamo qui con il portiere dei Red Davids in questa giornata di serata di Super League che li vede impegnati contro l'editico Bilbao. Allora, voi venite da Aicilia se lo sbaglio. Sì. Ok. Com'è andato il torneo precedente? Ma il torneo precedente è andato molto bene, siamo arrivati secondi, abbiamo dominato maggior parte del torneo, poi è andato benissimo, insomma, niente di che. Cosa vi aspettate da questo scontro all'eliminazione diretta contro una squadra comunque di buon livello come il Bilbao? Ma noi ce la giochiamo fino all'ultimo secondo e poi chi sarà più bravo a metterla più volte dentro vincerà. punti di forza della squadra, dei tuoi compagni, qualcuno in particolare su cui punteresti per questa sera? Punterai molto su Lorenzo, questo ragazzo qua che è molto bravo. Ok. Grazie mille e in bocca al lupo. Capito. Allora, andiamo qui con Carega. Grazie a tutti. C'è Cati del tuo Carega, portiere del Bilbao. Allora, com'è andato il girone di campionato, visto che siete qui alla Superliga? Abbiamo fatto un girone positivo, come d'altronde anche le passate edizioni, ci siamo misurati come al solito con l'Everton e il Manchester, siamo usciti bene anche dai scontri retti, quindi abbiamo pressione positive pure per stasera, finendo qui, andando avanti noi. Cosa vi aspettate dalla serata di Superliga, visto che comunque vi trovate contro una squadra ostica che nel suo girone era da seconda? Non li conosciamo, quindi noi pensiamo a noi, sappiamo di cosa siamo capaci, quindi rispettiamo l'avversario, però va bene così, li conosceremo tra un po'. Su chi punteresti per la serata di oggi? Un compagno che vedi in palla o capace di ribaltarti la situazione? Sono sincero, fanno me un po' difficile, perché pure voi bene o male siete imparati a conoscerli, quindi sono tutti grandi giocatori che possono fare la differenza da un momento all'altro. In bocca all'uvo, viva il migliore. Grazie sempre e vinciamo noi allora, speriamo noi. Buongiorno! 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 Let's go, let's go, let's go 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 Let's go, let's go